La Madonna dice che le farebbe particolarmente piacere Se nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie pregassimo insieme il Santo Rosario In modo speciale e contenta quando i genitori pregano con i figli e i figli con i genitori Quando sono così uniti in preghiera, Satana non può far loro del male La Madonna vuole inoltre renderci consapevoli che Satana opera instancabilmente Distogliendoci dalla preghiera e turbando la nostra pace Per questo ci esorta ad essere perseveranti nella preghiera La più forte arma contro Satana dice E' il Rosario in mano Ci raccomanda anche di portare su di noi qualcosa di benedetto Una piccola croce O una medaglietta In modo tale che sia un segno contro Satana Che noi le apparteniamo Iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella per non perdere i nuovi video Grazie a tutti